Mi alzo alla mattina alle due a fare il pane, sono anche morto, la vado a letto tardi. Però tutti questi sacrifici che faccio mi permettono di accumulare risorse minime. Ma da bambino invece ero povero, da bambino io il denaro non l'ho mai visto, la mia famiglia era povera. Quando eravamo bambini mi ricordo che la mamma ci portava in piazza la domenica e venivano i piccioni e ci davano le briciole di pane a noi. Da bambino, se non avessi avuto il pistolino non avrei avuto niente con cui giocare. Un giorno mio padre mi ha portato sulla cima di una montagna e mi ha detto Chiodaroli, guarda l'orizzonte, tutto quello che vedi un giorno sarà tuo. Ho detto papà, papà, non si vede niente. E no, ti fa appunto figliolo, appunto, mio papà, mio papà, un uomo attaccato al lavoro che tutte le mattine alle quattro con qualsiasi condizione atmosferica si alzava, andava dalla mamma, gli dava uno scrollone e gli diceva vai a lavorare poi dove mi va fino a mezzogiorno. Il papà, il papà, attaccato alla famiglia, il papà che per più di quarant'anni ha amato la stessa donna. Se lo sa mia mamma, lo amasa. Il papà, il papà, il papà. Grazie a tutti